Da Presidente della Camera posso dire che ho assistito alla fine dei lavori parlamentari con una certa dose di ammarezza, perché la legislatura si è conclusa con un grande tradimento, non trovo altre parole, è stato un grande tradimento il tramonto della legge di riforma della cittadinanza. Sono stati traditi 800.000 ragazzi e ragazze che ci avevano creduto perché glielo avevano promesso, sono italiani a tutti gli effetti, eppure non per legge, per legge no. Allora sono anche rimaste deluse e sono rimaste sole tante associazioni laiche e cattoliche che avevano lavorato a quel progetto, si erano spese per quel progetto, lo avevano trovato come una misura lungimirante, capace di aiutare l'inclusione sociale.